il notiziario di franco fracassi in collaborazione con becciolini network www.becciolininetwork.com canale telegram becciolini network salve a tutti questa è la prima parte della rassegna stampa realizzata da me insieme alla mia collega paola pentimella testa dico la prima parte perché oggi è accaduto qualcosa di raro di eccezionale quindi la rassegna stampa viene divisa in due e la prima parte è dedicata interamente alla cattura di matteo messina denaro allora il generale di visione pasquale angelo santo comandante di rossa ha rilasciato la seguente dichiarazione oggi oggi 16 febbraio 2023 carabinieri del ross del gis e dei comandi territoriali della regione sicilia nell'ambito delle indagini coordinate la procura della repubblica di palermo hanno tratto in arresto il latitante matteo messina denaro all'interno di una struttura sanitaria a palermo dove si è arrecato per sottoposti per sottoporsi a terapie cliniche in pratica la vicenda da così matteo messina denaro si trovava in un dei no un dei ospita alla clinica privata maddalena in pieno centro di palermo va sottolineata questa cosa quindi non è che era diciamo tanto nascosto dove si doveva probabilmente sottoporre all'ennesimo ciclo che è mioterapico per un tumore al colon e metastasi epatiche e udite udite dove in passato è stato operato sotto falso nome la cosa fa un po' ridere perché il falso nome usato è bonafede il nome dell'ex ministro della giustizia matteo messina denaro ha una volta che si è reso conto dove lo stanno per arrestare ha tentato la fuga così pare almeno è riuscito ad allontanarsi da clinica però è stato arrestato in un bar nei pressi appunto della maddalena la latitanza e gli costui del boss della mafia è durata 30 anni dal 1993 fino a oggi matteo messina denaro tra le varie cose è stato condannato all'ergastolo come mandante ed esecutore per le stragi del 93 a firenze nome milano è condannato seppur in via non definitiva per le stragi del 1992 però per importante diciamo proviamo a riassumere la figura del personaggio perché magari quasi tutti di voi sanno che è un boss mafioso ma non so quanti voi sappiano esattamente chi era matteo messina denaro allora intanto è a due soprannomi il primo u siccu e il secondo diabolic questo soprannome gli venne dato per via di un mitra che voleva sistemare sul frontale della sua alfa 164 allora la sua storia è una storia particolare perché è un figlio d'arte anzi nipote d'arte il nonno salvatore fu uno dei superstiti della repressione di quello che venne ricordato come il prefetto di ferro cesare mori quindi sotto il fascismo il prefetto mori si mise in testa di combattere la mafia e effettivamente per qualche anno da combattere sul serio beh il nonno salvatore messina denaro fu uno dei superstiti di quella repressione dopodiché c'era il padre il padre dolciccio francesco messina denaro che era capo del mandamento di castelvetrano in provincia di trapani dopo la guerra di mafia dei primi anni 80 quando con il mazzarese mariano agate fu alleato dei corleonesi contro le famiglie palermitane e quelle alcamesi dei rimi e trapanesi dei minore allora don ciccio fu condannato a dieci anni al tribunale tra pari 189 e quindi si rese latitante latitante per ben nove anni fino a che il suo corpo fu ritrovato il 30 aprile 98 nelle campagne calcio vetrano dopo che era appena morto di infarto nel frattempo il figlio matteo però si era già fatto un nome dentro cosa nostra era stato adottato da rina in persona e grazie anche a questo suo sorta di padrino divenne il vero proprio protagonista dello stragismo della criminalità organizzata siciliana allora a 14 anni già sapeva sparare ma il suo curriculum criminale vero e proprio inizia a 18 anni gli investigatori ritengono che lui sia responsabile di una settantina di omicidi come mandante ed esecutore e lo stesso diabolic non ne ha fatto nessun nessun mistero tant'è che racconta un suo vecchio amico ha raccontato agli inquirenti un suo vecchio amico che matteo gli avrebbe detto con le persone che ho ammazzato potrei fare un cimitero allora nei primi mesi del 1992 insieme agli altri boss di brancaccio del quartiere brancaccio di palermo il giovane diabolic fu spedito a roma l'idea era quella di uccidere sia il giudice giovanni falcone che all'epoca lavorava al ministero sia l'allora ministro di grazia giustizia claudio martelli a colpi di kalashnikov dopodiché si decise di 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 optare per un'altra opzione quella che conosciamo bene che per risultare in area falcone accapaci e risparmiò il ministro martelli e dopodiché matteo messina denaro usiccu e partecipò attivamente a una serie di di altre azioni nel 1992 come per esempio il fallito attentato al vicequestore germanà calogero germanà mazzara del vallo nel appunto il 14 settembre il 92 l'anno successivo aveva solamente 21 anni pensate quanto era giovane fu uno di quelli che si schierò a favore della continuazione della strategia degli attentati dinamitardi insieme si schierò insieme al ai boss le luca bagarella giovanni brusca e fratelli filippo giuseppe graviano lui partecipò attivamente alle stragi di di mafia infatti è stato condannato per questo e quali stragi beh quella di firenze milano roma stragi che provocarono 10 morti tra cui nadia e caterina nincioni vanno ricordate queste cose la prima aveva nove anni la seconda 50 giorni dicevo 10 morti e 106 feriti più ovviamente tutti i danni al patrimonio artistico e usicco era così un personaggio così crudele è un personaggio così crudele da essersi macchiato di un delitto orribile era il novembre del 1993 e lui fu gli tra gli organizzatori del sequestro del piccolo giuseppe di matteo che all'epoca aveva 12 anni giuseppe era figlio di santino di matteo che doveva secondo cosa nostra ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di capaci il piccolo giuseppe fu tenuto in prigionia da messina denaro 779 giorni 779 giorni più di due anni di prigionia al termine dei quali giuseppe di matteo venne strangolato e il cadavere sciolto nell'acido allora per questo omicidio usicco è stato condannato all'ergastolo in appello quindi si sta aspettando la cassazione inoltre i collaboratori di giustizia vari collaboratori di giustizia lui sarebbe il depositario e custode di indicibili segreti su stragi e trattative insomma un personaggio chiave si può dire e questo personaggio così importante dopo 30 anni di latitanza viene arrestato non è un record il record appartiene a bernardo provenzano arrestato dopo 38 anni di latitanza poi c'è anche totò rina sfuggito alle manette per ben 23 anni allora perché dico questo perché sia provenzano che rina quando furono arrestati in realtà quell'arresto non fu frutto di una brillantissima operazione antimafia ma di un accordo che venne fatto tra lo stato e cosa nostra visto che come raccontiamo io e la mia collega paola pentime la testa nel libro dei tali project questo accordo era in vigore fin dal 1943 quindi non hanno fatto altro che applicare una cosa che esisteva e sia rina che provenzano in realtà sono stati arrestati quando conveniva a cosa nostra cioè quando loro non rappresentavano più nulla per è il sistema di cosa nostra dell'epoca e quindi potevano essere tranquillamente fatti fuori e quando erano innocui da quel punto di vista e ogni volta il loro arresto ha significato anche l'arrivo di un boss al posto loro perché non esistono i vuoti in natura e nemmeno dentro la mafia quindi in virtù di questo ricordiamo un personaggio che può essere un personaggio chiave per comprendere la vicenda dell'arresto di messina denaro costrui un gelataio piemontese di origini siciliane oltre che con ex consigliere comunale di omegna si chiama salvatore bagliardo e non è un collaboratore giustizia è stato condannato per favoreggiamento dei boss di brancaccio e fratelli graviano perché a quanto pare salvatore bagliardo ne ha giustito la latitanza bene bagliardo ha dichiarato una serie di cose la prima messia denaro è gravemente ammalato è pronto a farsi arrestare è pronto a farsi arrestare non lo stato lo resterà ma lui si consegna sostanzialmente allo stato secondo tra le tante cose messina denaro è stato ospite in veneto a casa di un palermitato un tal vincenzo centineo che si trova che vive in provincia di treviso quindi a quanto pare messina denaro anche viaggiato per l'italia dice bagliardo anzi ha raccontato bagliardo lo scorso 8 novembre quindi due mesi fa ha raccontato questa cosa alla trasmissione della 7 non è l'arena l'8 novembre l'unica speranza per giuseppe graviano sinceramente me lo auguro anche io per loro perché sono giovani che venga abrogato questo ergassolo o stativo l'unica speranza per giuseppe graviano quindi il boss di brancaccio condannato per le stragi del 93 l'unica speranza è quello che venga abrogato l'ergastolo stativo ovvero l'anegge in base alla quale il gli imputati mafiosi godono di restrizioni anzi godono sono sottoposti a restrizioni ulteriori rispetto agli altri detenuti dice bagliardo aggiunge c'è anche un nuovo governo e chi lo sa che non arrivi un regalino cioè un regalino da questo nuovo governo ovviamente alla mafia e chissà magari presumiamo che un matteo messina denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso e così arrestando lui esca qualcuno che ci ha l'ergastolo stativo senza ci sia clamore ripeto bagliardo condannato per favoreggiamento dei fratelli graviano perché ne ha gestito la latitanza dichiara presumiamo che un matteo messina denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso quindi si consia si consegna messina denaro questo lo dichiaravo due mesi fa e così arrestando lui esca qualcuno che c'ha l'ergastolo costativo che ci sia senza che ci sia clamore lo scambio il boss il super boss la grande operazione antimafia in cambio di qualche mafioso che uscirà e chissà se non sarà questo nuovo mafioso che potrebbe uscire o a cui potrebbe essere abrogato in qualche modo il regime speciale che mi è riservato ai detenuti mafiosi beh un qualche nuovo boss prenderebbe il suo posto credo non ci sia null'altro da aggiungere la seconda parte della segna stampa quotidiana fatta da me insieme alla mia collega paola pentimella testa oggi è il 16 gennaio e si parlerà di libertà di stampa in ucraina di manifestazioni verdi e di ambientalismo in germania e delle stragi che hanno insanguinato questo paese tra il 1968 e 1980 alla notizia numero uno la federazione internazionale dei giornalisti ifj ha diffuso una nota seriamente preoccupate per lo stato la libertà di stampa in ucraina aggiungo io era l'ora viva dio sono nove anni che doveva fare questa cosa finalmente allora qui di seguito ecco qui il testo integrale del comunicato del ifj la libertà e il pluralismo dei media sono a rischio in ucraina a causa della legge sui media presentata al parlamento nel 2020 e approvate il 3 di dicembre 2022 che aumenta il controllo governativo sull'informazione la legge conferisce al regolatore il consiglio nazionale per la radio televisione i cui membri sono nominati dal presidente zelensky in questo caso e dal parlamento un'autorità più ampia sul panorama mediatico ucraino secondo la legislazione recentemente approvata firmata a zelensky il 29 dicembre il consiglio nazionale per la televisione della radio diffusione sarà in grado di vietare temporaneamente il lavoro dei mass media online e di chiedere ai provider di internet di bloccare l'accesso alle pubblicazioni online senza un'udienza in tribunale di emettere ordini vincolanti per le redazioni dei media di regolamentare il lavoro degli operatori televisivi via cavo e online e di cancellare la registrazione della carta stampata tra le altre cose nel luglio 2022 quando quando all'ucraina è stato concesso lo status di paese candidato all'adesione all'unione europea le affiliate della federazione internazionale dei giornalisti nuiu e in tu insieme alla federazione europea dei giornalisti e fj hanno chiesto all'autorità ucraina di allineare il progetto di legge sui media agli standard europei di libertà di stampa in una dichiarazione pubblicata il 3 dicembre il nuiu ovvero la federazione internazionale dei giornalisti ha avvertito che la libertà di parola è minacciata in ucraina è abbollato come eccessivo il più ampio potere concesso all'autorità di regolamentazione nazionale il sindacato affermato che la legge non prevede la regolamentazione della sfera mediatica ma di fatto l'instaurazione di rapporti di subordinazione quando i media diventano sotto il controllo delle autorità allora il comunicato continua e dice anche questo stato di cose non contribuisce a limitare l'influenza politica della forza politica il filo governativo sui media e contraddice il principio di pluralismo creando problemi sistemici alla democrazia e ancora annulla il ruolo dell'autorità di regolamentazione pone i proprietari dei media in piena dipendenza politica ed economica dalle decisioni personali del presidente del paese qui si riferisce a zanensky che creerà problemi alla democrazia e ancora siamo estremamente preoccupati per la deriva autoritaria del governo ucraino nei confronti dei media dei giornalisti sebbene la nuova legislazione sia intesa ad attuare la direttiva europea potrebbe creare problemi sistemici per la democrazia in ucraina in quanto espande il controllo statale sui media questo l'ha dichiarato il segretario generale dell'ifj anthony bellanger e ancora chiediamo al governo di riscrivere la legge aprire una discussione con le organizzazioni dei giornalisti e dei media non può esistere una democrazia senza un giornalismo indipendente insomma finalmente i giornalisti europei sono svegliati sono resi conto di quello che sta accadendo in ucraina e francamente non so se avete capito bene il testo della legge il governo zelensky può fare quello che vuole da questo momento legalmente non sono più azioni legali che avvenivano già prima perché dobbiamo ricordare che in ucraina la libertà di stampa è farlocca oramai da nove anni perché un uomo della scia è sbarcato nove anni fa a kiev e ha messo su un il ministero dell'informazione attraverso cui controlla tutta l'informazione ucraina ricordiamo che i giornalisti ucraini che non si allineano vengono minacciati e spariscono vengono uccisi e vorrei dire che anche se questo in media non lo dicono dal 2014 a oggi chi governa l'ucraina ha ucciso fatto sparire vi ricordate desaparecidos degli anni 70 in sud america ucciso fatto sparire più di 80 tra blogger e giornalisti considerati traditori perché avevano usato chiedere pace e neutralità e preteso di voler raccontare la verità su quanto stava accadendo dentro l'ucraina bene tutto questo accadeva prima e tutto questo era illegale teoricamente anche se il governo era il governo lo stesso a permettere tutto esattamente la repressione del dissenso e dell'informazione bene da adesso è stata fatta una legge per cui non c'è più bisogno di uccidere nessuno semplicemente chiudi tutto fai sparire le cose e impedisci alle redazioni di lavorare via dio i giornalisti europei per la prima volta e sono svegliati alleluia in ucraina non c'è libertà notizia numero due allora quel che sta accadendo in queste ore in germania a l'utzerrat dove ci sono diecimila persone compresa greta thunberg che da giorni stanno protestando contro l'espansione della locale miniera di carbone in nord reno westfalia e stanno fuori da questa miniera a protestare insomma ci fa tranquillamente affermare che ormai è finita l'una di miele tra l'establishment del capitalismo occidentale e l'ambientalismo e tutto questo è venuto grazie alla guerra in ucraina e vi spiegherò anche come mai allora se pensiamo che la principale esponente dei verdi tedeschi annalena berbock è diventata ministra degli esteri ed è tra i più sfegatati bellicisti del fronte nato se fosse per lei raderebbe al suolo e la russia insomma bisogna ammettere che l'ambientalismo ansioso di entrare nel palazzo per cambiare il mondo in realtà ha dichiarato guerra la propria base elettorale e all'ambiente stesso a Lützeracht la polizia è intervenuta per sgomberare gli accampamenti ambientalisti sorti a difesa della cittadina e adesso vi spiegherò anche perché a difesa della cittadina e sono intervenuti e hanno ovviamente una volta intervenuti la situazione è precipitata con gli agenti a cavallo che hanno caricato i manifestanti pestandoli a suon di manganelli allora che cos'è questa miniera? è la miniera di Garzweiler anzi Garzweiler scusate era una di quelle miniere che doveva chiudere anche perché la sua produzione annuale era ormai ridotta a soli 25 milioni di tonnellate di lignite che sarebbe un tipo di carbone poco efficiente ma soprattutto altamente inquinante quindi la Merkel aveva deciso di chiudere questa miniera poi arrivano i verdi al governo e che succede? succede che scoppia la guerra in Ucraina e la super guerra fondaia Anna Elena Berbock leader dei verdi nonché ministro degli esteri decide che bisogna fare ogni tipo di sanzioni all'Ucraina e quindi c'è bisogno di trovare fonti alternative di energia tra cui il carbone e quindi il governo, il governo Scholz con dentri verdi ha deciso che quella miniera non solo resterà aperta ma verrà più che decubblicata la sua produzione da 25 milioni di tonnellate a 280 milioni di tonnellate entro il 2030 una delle caratteristiche però che esiste pericolose della lignite è che si trova molto vicino alla superficie dunque le miniere non si sviluppano per chilometri in profondità ma si allargano sbancando con enormi ruspe grandi appezzamenti di terreno insomma la piccola produzione di che si svolge adesso all'Utzeraz che è una miniera aperta negli anni 60 fa sì che la miniera la miniera Garzweiler si estende per circa 48 chilometri quadrati una piccola miniera che si estende per 48 chilometri quadrati e per raggiungere quegli obiettivi 280 milioni di lignite entro il 2030 bisognerà combinare disastri epocali perché già sono stati già sono scomparsi dagli anni 60 a oggi 20 paesi 20 paesini perché appunto la miniera occupa 48 chilometri quadrati beh altri 7 paesi spariranno tra cui l'Utzeraz per far posto all'estrazione della lignite quindi diciamo che gli attivisti tra cui c'è Greta Thunberg vorrei sottolineare questa cosa che sta lì fisicamente sono in questo momento doppiamente circondati militarmente dalla polizia e politicamente abbandonati al loro partito di riferimento i Verdi allora già diciamo nell'ottobre 2022 il cancelliere Olaf Scholz aveva annunciato la riapertura di 5 centrali elettriche alimentate all'inite alla faccia dell'ambientalismo ma di questa questione cioè la questione di Luzzeraz beh di questa questione si è occupato niente di meno che il presidente del partito verde Robert Habeck che da poco più di un anno ricopre anche la carica di vice cancelliere e ministro dell'economia costui ha siglato un accordo col colosso energetico RWE allora veramente è stupefacente come l'eroina Greta Thunberg improvvisamente non sia più l'eroina ma sia qualcos'altro perché poi andando succo succo il diciamo questi potenti al capitalismo finanziario che si ritroveranno a breve a Davos per il World Economic Forum beh hanno avuto questa loro bella luna di miele con l'ambientalismo ma anni e anni di narrativa greenwashing vengono archiviati a suon di manganelli notizia numero 3 allora è notizia di questi giorni che la sparizione dei documenti riguardanti il periodo più sanguinoso delle stragi ricompreso tra il 68 e il 1980 che sarà il periodo più sanguinoso della nostra storia dagli attentati ai treni fino alla strage di Ustica e Bologna documenti che si trovavano al ministero dei trasporti sono spariti in particolare a mancare tutta la documentazione del ministro e del suo gabinetto come ha denunciato la presidente dell'associazione delle vittime di Ustica Daria Bonfietti che sottolinea come ci si trovi totalmente fuori da ogni applicazione della legislazione esistente sulla conservazione e trasmissione degli archivi di Stato della documentazione dell'amministrazione pubblica in altre parole delle documenti fondamentali per capire che cosa è successo durante quegli anni insanguinati sono spariti sono spariti perché? intanto la conferma è arrivata anche dalla sottosegretaria al ministero dei trasporti Fausta Bergamotto di Fratelli d'Italia è arrivata perché lei ha risposto ad un'interrogazione parlamentare e ha ammesso che a seguito delle ispezioni effettuate dalle delegazioni del ministero stesso della documentazione non vi è più traccia tant'è che la Bonfietti ha ricordato che l'insufficienza della documentazione è sempre stata al centro delle critiche e delle denunce delle associazioni ed è stato negli anni la causa del contendere all'interno del comitato nei confronti con le amministrazioni perché senza quelle carte è un problema non solo la memoria ma eventualmente anche i processi che si stanno piano piano riaprendo insomma non è la prima volta che spariscono documenti però sarebbe anche il caso che la si facesse finita con queste cose sono passate tanti anni magari potrebbero anche riapparire non è la prima volta beh per esempio ricordiamo che all'indomani della strage di Ustica strage dove morirono 81 persone a bordo di un 19 dell'Italia il giorno dopo furono fatte sparire le prove della guerra che si stava consumando nei cieli del terreno la sera del 27 giugno 1980 cioè la sera dell'abbattimento dell'aereo insomma c'era una guerra in atto nel cielo nei cieli italiani tutte le tracce della guerra furono fatte sparire come sono state fatte sparire le stragi su tante stragi di stato da parte di uomini dello stato e tutto questo ha permesso di scoprire solamente verità parziali dopo decenni e gli altri pezzi pezzi mancanti del puzzle si stanno ancora aspettando evidentemente la questa storia non è finita noi abbiamo io e Paolo abbiamo fatto un libro di Italy Project in cui raccontiamo tante cose e in cui raccontiamo come lo stato lo stato non parete deviati dello stato ma lo stato italiano collabori abbia collaborato attivamente e ancora lo faccia con le mafie cosa nostra drangheta e camorra e con il terrorismo rosso e nero beh forse magari anche se non è la segna stampa vi invito a leggerlo il libro così vi renderete conto quando quanto questa notizia di oggi e anche la notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro come queste notizie in realtà sono un po' diverse soprattutto l'arresto di Matteo Messina Denaro da come ci vengono raccontate e come sono comprensibili conoscendo la storia ciao a tutti allora oggi parliamo anche di un di qualcosa che è apparentemente una notizia una notizia seria per carità importante che però suona un po' strano ovvero che negli Stati Uniti si è svolta una grande grande manifestazione per la pace in Ucraina e il ritiro della Nato allora stiamo parlando di Stati Uniti quindi del paese che controlla la Nato sostanzialmente tutti gli altri sono subordinati agli Stati Uniti questa notizia ci arriva da Peace Link e la manifestazione si è svolta sabato 14 gennaio quindi lo scorso sabato a New York beh non una città qualsiasi una città storicamente pacifista però fatto sta che è successo questo si sono urlati slogan del tipo espansione della Nato no pace in Ucraina si allora capite bene che non in Italia non in Francia non in Germania non in un altro paese europeo che si sta suicidando a causa di questa guerra per volontà degli Stati Uniti attraverso la Nato ma negli Stati Uniti si chiede di non allargare la Nato a Svezia e Finlandia e si chiede di farla finita con questa guerra ucraina perché è la Nato che può decidere di farla finita oppure no allora perché vorrei ricordare che ovviamente per l'ennesima volta che il conflitto in Ucraina non nasce dal desiderio di impero del presidente russo Vladimir Putin e poi ridurre a un solo uomo la decisione di un paese è veramente ridicola la cosa ma casomai dal desiderio di impero della Nato e di Wall Street una sorta di desiderio di dominare e sfruttare altri paesi lo stesso che ha portato ad invadere l'Afghanistan invadere l'Iraq invadere la Libia invadere la guerra civile in Siria eccetera eccetera compreso il colpo di Stato del 2014 in Ucraina perché insomma se parliamo di invasori siamo capiti allora cerchiamo di capire la Nato come ha agito e come agisce così almeno capiamo anche il valore di questa manifestazione ripeto una manifestazione negli Stati Uniti che chiede di non allargare la Nato e di farla finita con la guerra in Ucraina e allora secondo la narrazione ufficiale il conflitto in Ucraina sarebbe dovuto esclusivamente al sogno di Putin di diventare un nuovo Hitler e di conquistare il mondo quindi diciamo che Putin sarebbe uno completamente pazzo uno pazzo se poi si va a vedere quello che è accaduto e si va a vedere non la storia che incomincia il 24 febbraio ma quella che incomincia sempre cioè la storia si scopre che la Nato ha fatto messo su ogni sorta di provocazione annunciando l'entrata in guerra dell'Ucraina scusate l'entrata nella Nato dell'Ucraina poi smentendola poi poi riannunciandola eccetera 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 ha annunciato il suo intento esplicitandolo di espandersi fino ai confini russo-ucraini costruendo lungo quei confini diversi siti per missili nucleari che i russi ovviamente non potrebbero abbattere essendo il punto di lancio così vicino a Mosca quindi non avrebbero il tempo di opporsi a questo la Russia gli ha chiesto dice per favore fermatevi che bisogno c'è che l'Ucraina entri la Nato non c'è nessun bisogno potrebbe tranquillamente essere un paese neutrale come la Svezia come la Finlandia è andato tutto bene fino adesso e invece la Nato ha sempre detto ha sempre detto che bisogna riconquistare il Donbass che erano delle repubbliche autonome bisogna togliere la sovranità russa alla Crimea perché vuole e anche questo è nato l'ha scritto vuole installare basi missilistiche perfino in Crimea allora mentre l'Europa guarda dall'altra parte e appoggia la Nato fondendo armi di ogni sorta per alimentare la guerra in Ucraina recentemente molto recentemente il governo ha anche diciamo deciso di inviare il sistema missilistico di difesa italo-francese proprio all'Ucraina dopo che la Francia si era rifiutata quindi si poteva rifiutare benissimo a New York negli Stati Uniti c'è uno slogan che il proclama che tutti noi dovremmo sottoscrivere insieme a tutti gli ucraini amanti della pace espansione della Nato no pace in Ucraina sì ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.